Saranno celebrati domattina alle 10.30 nella Chiesa Madre di Gela i funerali di Monsignor Grazio Labbiso. Da ieri una moltitudine di fedeli ha voluto rendere omaggio a quello che è stato l'emblema della Chiesa in città. Il lassa giordote si è spento nel sonno, sono stati alcuni fedeli a lanciare l'allarme, hanno suonato ieri più volte al campanello dell'abitazione in cui risiedeva il parroco, non ricevendo alcuna risposta. I carabinieri del reparto territoriale e medici chiamati sul posto hanno constatato il decesso. Monsignor Grazio Labbiso, nato a Gela il 1 febbraio del 1941, la settimana scorsa aveva subito danni a seguito di una caduta. Era malato da qualche anno. Dopo regolari corsi ginasiali, liceari e teologici nel seminario di Piazza Almerina, perfezionò gli studi di teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, conseguendo la licenza in Sacra Teologia. Approfondì gli studi filosofici e storici presso l'Università degli Studi di Catania e conseguì l'abilitazione statale, superando a pieni voti gli esami per l'insegnamento delle scienze umane e della storia. Monsignor Grazio Labbiso fu ordinato sacerdote l'11 agosto del 1963. È stato vicario parrocchiale nella chiesa Santissimo Crucivisso di Piazza Almerina, prefetto d'ordine e vicerettore del seminario di Piazza Almerina, vicario parrocchiale al Carmine di Gela, assistente della Gesci e parroco della chiesa San Giovanni Evangelista di Gela dal settembre 1966 al 1983. Dalla 16 febbraio del 1983 fu parroco della chiesa Maria Santissima Assunto in Cielo, chiesa madre di Gela e nel 1976 ricevette l'incarico di vicario Foranio della città. Monsignor Grazio Labbiso è stato delegato Vescovile per l'edilizia di culto e componente della commissione diocesana di arte sacra, curando e seguendo la realizzazione di nuovi complessi varrocchiali e dell'acquisto e lavori di recupero e adattamento dell'ex convento di San Francesco di Piazza Almerina da destinare a Curia diocesana. Nel 1968 con i rovers degli scout organizzò e collaborò per il terremoto nel Belice. Dal 1985 al 1998 si interessò dei tossicodipendenti e con Don Pierino Gelmini si adoperò per la fondazione del centro di Gela della comunità Incontro, divenendo il responsabile referente e sensibilizzando le autorità civili e religiose e la popolazione sul grave fenomeno della droga. Dal 1986 è stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Pignatelli, di cui fu eletto presidente nello stesso anno. Nella novembre del 2013 aveva celebrato l'anniversario per i suoi 50 anni dall'ordinazione sacerdotale.